Ecco, questo facciamolo vedere ai nostri telespettatori, è la salama da sugo ferrarese cruda, sono due salame, la salama si chiama, la salama. E adesso, questa, vediamo le stesse coppe. Vuole spiegare ai nostri telespettatori come si cuoce la salama da sugo? Si cuoce a bagnomaria, ma meglio che c'è del sugo lì, scusate, il vino quello? No, è il sugo che emane la salama stessa. Ah, non è il vino? No, no, sì, perché poi è condita con anche vino e liquori. Cioè, è la salama stessa che dentro ha del vino, il vino cognac e barolo. Sì, signore. Cognac e barolo, ma non è che ci si mette. No. È messo già dall'impasto. Cioè, la salama cruda, che sarebbe questa, ha già dentro il vino e il cognac, oltre a tutte le altre cose.